E ancora a venti di guerra invito alla pace ad invocarlo e l'imprenditrice alcamese Annalisa Milotta con una singolare iniziativa affiggendo dei teloni inneggianti proprio alla pace perimetralmente alla sua azienda. Ci troviamo per chi non di Alcamo in una delle due zone industriali alcamesi con Tata Sasi. Ciò che mi ha colpito molto passando per questo viale è aver visto affissi dei teloni con della scritta pace lungo le inferriate del suo marchio, della sua azienda. Lei da imprenditrice poteva fregarsene perfetto, l'imprenditrice va dal profitto. Invece no, affiggendo questi teli si vede l'umanità che traspare da un'azienda, da un marchio. Ho sbagliato o è così? No, non ha sbagliato. Direi che è nient'altro che un inno alla pace, un invito all'unione fra gli uomini e fra le istituzioni, nell'autentica ricerca del vero bene comune, la non violenza. La pace sarebbe una condizione sociale indispensabile e senz'altro il bene più grande a cui l'umanità possa aspirare. Ma tante volte è negata da conflitti che hanno portato al genere umano sofferenze indicibili, reduci di una grave pandemia mondiale che ha causato sofferenze, lutti e crisi economica. È ancora più incredibile constatare la cinicità dei potenti che non hanno interesse per i deboli, continuando a soccomberli e a creare stragi di innocenti con disinvoltura. Le immagini che arrivano dall'Ucraina sono immagini strazianti, che fortunatamente la mia generazione non ha vissuto la guerra e credo anche la sua, però ci mettono a cospetto di un pericolo che viviamo dietro l'angolo di casa nostra. Pericolo vasto anche nel mondo dell'economia. Stiamo vivendo un caos economico che non ha precedenti nella storia recente, generato sicuramente dalla pandemia e adesso anche dalla guerra. Gli scenari del mercato sono incomprensibili. Assistiamo giornalmente a galoppanti incrementi dei costi delle materie prime. La situazione nell'ambito edile è fuori controllo. Le acciaierie sospendono le produzioni. Si manifesta ansia, ma non per questo ci perdiamo di coraggio. Scateniamo l'adrenalina e combattiamo con forza le avversità ovviamente, con la speranza che possano trasformarsi in opportunità, come la storia ci ha talmente insegnato. Voi a giorni sarete nell'esposizione mondiale di Dubai, ecco con quale spirito, con quale animo vi accingerete a partecipare, a partecipare in un periodo dove i venti di guerra soffiono e non si sa quando e se si placano. Sì, esponiamo alla fiera di Dubai dove saremo presenti oltre 800 espositori che offriremo un panorama di soluzioni energetiche che mirano ad ottimizzare sempre di più l'efficienza produttiva. Il mio augurio è in primis la pace nel mondo e a seguire la prosperità del lavoro e dell'economia, elementi indispensabili per la dignità dell'essere umano. Ciò che abbiamo cercato di far veicolare attraverso le parole che poi è lo specchio del cuore, con quale auspicio la chiudiamo questa intervista? Ribadisco, l'auspicio è sicuramente quello della pace, essenziale ma accompagnata alla pace ci vuole tanta dignità, la dignità è sicuramente il lavoro.